Ciao a tutti amici di Popcorn, sono finalmente tornata in Italia e ovviamente riprende come sempre Popcorn Vi ricordate i film di Tomb Raider di tanti anni fa in cui la bella Lara era interpretata da un'altrettanto bella Angelina Jolie? Beh, la cara Angelina però ha deciso di non voler più interpretare Lara Croft ormai da molto tempo E quindi per il terzo film c'era bisogno di una nuova attrice La scelta è ricaduta su Alicia Vikander, reduce dell'Oscar per The Danish Girl, è una delle attrici emergenti più talentuose al mondo Alicia interpreterà una giovane e inesperta Lara, infatti il terzo film si rifarà al reboot del 2013 dove troviamo Lara alle prese per la prima volta con le tecniche di sopravvivenza dopo il naufragio su un'isola Per il ruolo si era pensato anche a Daisy Riley Ray in Star Wars l'ultimo capitolo Ma proprio per questo suo legame forte con un altro franchising si è deciso di optare per Alicia Ancora la data di uscita di questo film non è sicura ma si vocifera che dovrebbe arrivare nelle sale americane il 6 ottobre 2017 E voi siete fan di Tomb Raider? Cosa ne pensate di Alicia? Perché io l'ho adorata in The Danish Girl quindi secondo me farà un ottimo lavoro Però voglio sapere la vostra opinione in un commento qua sotto e noi ci vediamo sempre qua Mi raccomando vi ricordo di visitare www.screenweek.it e magari di scaricare l'applicazione Ciao! Ciao!